buongiorno a tutti eccoci arrivati con un nuovo video del sabato anche quest'oggi ho voluto dedicare questo sabato a euro dollaro ovvero uno dei mercati che io preferisco e che trado di più da veramente tantissimi anni e vista la situazione settimana scorsa avevo fatto un video questa settimana mi sembra corretto andare a rivedere quello che è venuto sull'euro dollaro per due motivi uno perché questa settimana coincide anche con la chiusura del mese e sapete che per come lavoro io per come approccio al trading io i time frame grandi sopra il daily quindi weekly e mensile sono molto importanti non sempre il mensile chiude nello stesso momento del weekly e io ritenendo il weekly è il migliore time frame da osservare per il forex proprio per la sua chiusura ma quando combacia con il mensile è sicuramente molto molto importante e secondo perché in effetti questa chiusura ci sta indicando delle cose da delle informazioni operative da osservare da andare ad approfondire e quindi visto insomma che ogni tanto facciamo questi video settimana scorsa ne avevo fatto uno non era in programma a fare questo video ma mi sembrava doveroso allora bene prima di partire ovviamente io vi ringrazio per seguire sempre questi video che sono molto seguiti vi chiedo ovviamente di lasciare un mi piace se questo video vi piacerà di iscrivervi a questo canale se non siete iscritti e di attivare sempre la campanella per ricevere tutte le notifiche poi non dimenticate di condividere questi video sulla vostra community nei vari social allora iniziamo a vedere euro dollaro allora facciamo così vediamo un po adesso mi vedete più piccolino ma il grafico lo vedete molto molto grande e quindi come potete notare qui abbiamo il solito mio layout ovvero grafico settimanale a sinistra grafico giornaliero a destra mi concentrerei però prima su mensile weekly quindi vado qui vado su mensile e vado a prendere quello che sta succedendo negli ultimi mesi che è molto importante quindi quello che andiamo a notare è mese scorso che avevamo anche visto anche la settimana scorsa ne parlavamo ribasso con un doppio massimo lower è andato a ritestare invece questo mese vedete con una barra a bassa volatilità ma spesso insomma nel momento in cui si vengono a creare un doppio massimo lower c'è il ritracciamento verso questo massimo questo minimo e poi il recupero tra l'altro in questo caso specifico è molto importante perché arrivavamo proprio in area 1 16 30 16 50 questa zona qui che era la zona di chiusura mensile settimanale o comunque il livello chiave livello di interesse abbiamo parlato più di una volta e qui combacciava con una chiusura molto forte mensile settimanale in volatilità e quindi abbiamo visto come questa situazione potesse portare poi d'altra parte a un movimento short o comunque delle price action short eh che dire ehm abbiamo quindi una conferma a fine settimana a fine mese che questo livello di 1 16 30 16 50 difficilmente nel mese di novembre verrà rotto al rialzo e quindi è molto più probabile vedere una continuazione di tendenza verso i primi livelli che adesso andremo a vedere che sono comunque la zona diciamo 1 e 14 quindi primariamente nella big picture quello che mi viene da dire è conferma operativa sul mensile con una ulteriore chiusura sotto questo doppio massimo lower close che è questo tipo di pattern che mi sono creato io tanti anni fa eh ne ho parlato sul mio primo ebook professional trader che è uscito nel 2010 scritto nel 2009 ma era un qualcosa che mi sono creato io no? Eh come vestito su misura nelle cose che vedevo mettendo insieme alcuni pattern ho creato questo pattern e eh in questo caso specifico direi che è molto interessante perché diciamo che contestualizzato sul tipo di struttura direi che eh ci calza pennello e la settimana il il mese questo qui che è appena chiuso conferma diciamo il setup in maniera anche direi da manuale no? Quindi il ritest e recupero. Vediamo sul mensile prima di passare al settimanale che ho segnato un'altra zona mensile che è la prima zona di chiusura importante. Allora vi faccio vedere un attimo prendo la pennetta datemi un secondo eccoci qua allora eh questa zona qui che è una zona di interesse eh è stato zona di interesse negli ultimi anni qui siamo sul 2016-2017 quindi movimento dal basso verso l'alto boom in realtà ce l'ha già stato prima però qui la chiusura io sapete che vado a osservare bene le chiusure poi ancora eh movimento ribasso in volatilità e ancora chiusure dal basso verso l'alto boom mh e ancora dal basso verso l'alto boom poi c'è volatilità e chiusura sopra e recupero quindi diciamo che guardando il mensile questi 14,50 all'incirca 14,40, 14,50 potrebbero diventare il primo scoglio diciamo eh per i venditori però stiamo a 15,60 quindi ci sono 120 pips di eh no 120 110 pips di movimento ancora da fare per l'euro dollaro almeno iniziale ma in realtà poi adesso andiamo a vedere anche il settimanale quindi vediamo un po' la dinamica un po' più di breve ma non di brevissimo perché settimanale comunque non è un daily che è di brevissimo eccolo qua vedete che il settimanale facciamo un po' così chiude una settimana molto interessante questa qui diventa anche un FTV combo ve la faccio vedere perché l'FTV ha bisogno della media mobile per essere no? eh per essere sicuri che lo sia 21 eccolo qua per chi conosce l'FTV noteremo questa è la media mobile che questa è anche un FTV combo quindi tiriamo via la media mobile che adesso non serve più eh abbiamo vedete eh il livello precedente che è anche il livello mensile si nota bene che era il livello quello importante di cui se avesse tenuto questa zona in chiusura settimanale ma è stato tutto ieri non il movimento adesso lo vedremo eh sarebbe stato diverso completamente sarebbe stato diverso completamente almeno nel breve nel futuro prossimo la dinamica in questo caso doppio massimo lower close si è venuto a creare un doppio massimo lower si è venuto a creare un FTV combo direttamente sul livello importantissimo quindi diciamo che qui è tradabile il weekly proprio è tradabile il weekly avete capito? cioè è assolutamente interessante e quindi in questo caso specifico adesso andiamo a vedere per esempio questo tipo di eh setup che tipo di ritracciamenti fa scusate diciamo così ecco noteremo che adesso guardiamo i ritracciamenti percentuali però poi sapete che io devo andare a vedere anche assolutamente i ritracciamenti sui livelli di prezzo quindi faccio questo faccio questo ok questa zona qui è la zona di ritracciamento che a livello di percentuale di ritracciamento sono le zone più classiche quindi 1,16 metà qui avremo 1,16,13 e 1,16,30 quindi sono le zone eh 38,2 50 interessante quindi abbiamo già sulla settimanale un'ottima un'ottima situazione un'ottimo setup se vado sul daily quindi faccio questo e vado sul daily prendo questo lo configuro e lo porto su time frame inferiore oh bene noteremo come in questo caso specifico eccolo qua la zona che abbiamo detto essere no eh di vendita è proprio questa allora guardate io nel daily guardate cosa è successo cioè grandissima volatilità giovedì rimangiata direttamente venerdì con quindi è stato tutto venerdì diciamo cioè tra giovedì e venerdì in realtà no però se ci fosse stata una chiusura bullish sopra 16,70 sopra 16,50 direi che aveva un'altra caratteristica quindi vedete come dobbiamo essere bravi anche a ragionare e cambiare idea o a aspettare ecco una cosa importante le close soprattutto le close di settimana eh in questo caso vedete che allora la il livello percentuale abbiamo detto che è tra area 1,15 e 95 e 1,16 e 30 diciamo 1,16 1,16 e 1,16 e 30 no e ci sono due zone a mio avviso che in effetti più o meno combaciano di prezzo che sono queste allora guardate un po' sono eh facciamo con questo sono questa prima zona questa è la prima zona di vendita assolutamente 15,90 prima zona di vendita poi abbiamo seconda zona di vendita che è questa qui eh 1,15 e 1,16 e 18 e in realtà questa combacia con qua poi ti dico vi dico ci sarebbe anche questa l'1,16 e 50 però vista la vola visto il tutto tornare qua sopra poi per carità tutto può succedere ma non è che mi metterei a vendere di qua quindi le due zone più importanti sono queste diciamo che questa combacia più o meno tra il 50 e il 61,8 e questa è praticamente sul 38,2 quindi la mia idea operativa la settimana prossima eh cioè la settimana prossima per questa che che sta arrivando potrebbe essere quella addirittura di andare a vendere limite quindi inserire un ordine pendente limite su questa zona vendita limite in area 1,16 eccola qua 1,15 e 90 se vogliamo essere più più bravi 1,15 e 90 vendere qui e lo stop loss in questo caso vista la falsa rottura assolutamente chiara su weekly e daily molto molto chiara con il setup weekly eccetera direi che l'area 1,17 diventa l'area di stop loss cioè nel momento in cui il prezzo dovesse recuperare andare verso in area 1,15 e 90 ed eseguirmi e questo inizia a salire 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 va a 1,17 si saluta si porta a casa la perdita e si guarda avanti e si fa altro però questo secondo me è assolutamente un ottimo modo per fare trading su euro dollar nel prossimo futuro dobbiamo essere attenti poi a dei livelli scusate a dei livelli di importanti di prezzo che sono più o meno quello che dicevamo prima il primo beh ovviamente abbiamo questo minimo ma credo che sarà abbastanza facile che venga violato quindi 15,30 abbiamo la zona 14,50 e poi l'arrivo finale a 13,70 13,70 nel quale abbiamo l'ho tirato fuori dal weekly come livello 13,70 che sarebbe poco sotto 1,14 è questa zona di prezzo molto importante andiamo a vedere anche le estensioni di questo pattern di prezzo che cosa ci stanno indicando allora facciamo così ok poi prendiamo le nostre impostazioni di estensione ovviamente quelle personali ok e vediamo come ecco tra l'altro tra l'altro abbiamo due interessanti confluenze potrei dire anche tre è che non l'ho segnato questa zona però se guardate il 261,8 12,80 ha una confluenza di chiusura guardate questa è una chiusura questa è l'apertura ma questa è la chiusura questa è la chiusura e poi viene buttato giù quindi anzi me la segno perché in effetti questa zona qui è una zona che è molto importante anche questa quindi ci sono in realtà molte più confluenze di quelle che ci sono le tre confluenze principali da 161,8 211,8 261,8 che sono i miei livelli chiave sono 14,50 13,70 e 12,90 le estensioni sono quasi lì sono 14,40 13,60 e 12,80 quindi questo tipo di setup ovviamente è un weekly quindi non è che ci mette una settimana però ci vorrà tempo diciamo che il tipo di impostazione sembra voler far portare i prezzi verso almeno il primo livello secondo me che è la zona tra i 14,50 e i 13,70 quindi questa è una zona che probabilmente nelle prossime settimane su euro-dollaro è facile si potrà vedere poi magari per i 12,80 ci potrà volere più tempo se ci arriveremo però le prime due zone secondo me sono assolutamente fattibili nel giro di entro fine anno assolutamente siamo a novembre ormai quindi nel breve e quindi io mi concentrerò molto bene tra l'altro abbiamo anche una correlazione in generale e prendo principalmente la sterlina dollaro che è sicuramente una valuta una coppia di valuta importante che che è in linea insomma con euro-dollaro non voglio andare su questo ne parlerò principalmente con i platinum questo questo fine settimana sul programma operativo di fine settimana però questa è sicuramente un'ottima un'ottima possibilità di trading quindi 13,90 scusate 15,90 può diventare un buon livello di vendita ok un buon compromesso tra daily e weekly con un'entrata assolutamente ad un buon prezzo non 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 escludendo che se si entra senza troppo rischio subito quindi si entra magari a 13 a 15,90 senza troppo rischio si può anche decidere nel caso in cui si sale poi si riscende quindi ci fa un ulteriore price action all'interno di questa grande volatilità anche su daily anche di fare un incremento ulteriore in una conferma successiva cioè non è non è assolutamente sbagliato anzi probabilmente mi mi andrò ad approcciare in questo modo bene mi sembra di aver detto tutto quello che è quello che penso su euro dollaro sono assolutamente assolutamente diciamo mi piace assolutamente quella che è la struttura dei prezzi di euro dollaro ha creato assolutamente quello che io voglio vedere quindi un setup in close assolutamente super possiamo fare un bel run up per fine anno novembre dicembre con dei bei deal perché c'è qualcosa sul mercato che si è venuto a creare con questo fine mese fine settimana e quindi andare a cercare di fare un run up per fine anno nel nostro anno di trading almeno per quanto mi riguarda quindi bene concentriamoci su pochi strumenti ma facciamoli io a questo punto vi saluto prima di salutarvi vi richiedo sempre di lasciare un mi piace di commentare ovviamente questo video e ripeto di fare network e quindi di fare un po' di di condivisione con i vostri nei vostri social bene allora io vi saluto vi auguro ovviamente una buona un buona una buona fine un buon fine settimana una buona settimana di trading la prossima ci vediamo sul platinum se siete platinum e ci vediamo direttamente su youtube se invece seguite esclusivamente questo canale grazie a tutti un saluto ciao